Siamo agli spettacoli al Via Martedì 15 giugno, la stagione estiva del Teatro Verdi di Gorizia, presentati oggi gli 11 appuntamenti in cartellone. Si partirà con The Black Blues Brothers, esibizione di teatro acrobatico. Tra gli altri interpreti sul palco, Graziana Borciani degli Oblivion, che con Stefania Seculini e Gaia Ferrara metterà in scena un omaggio a Edith Piaf e Marlene Dietrich. Il trasformista Ennio Marchetto, la sera dei miracoli in un omaggio a Lucio Dalla, la microband e quattro spettacoli per bambini e famiglie. Fino alla chiusura a settembre affidata a Giulio Casale che riproporrà lo spettacolo di Giorgio Gaber, polli di allevamento.